Uno dei trucchetti più belli che è Excel, CTRL-E, estrarre informazioni in automatico da una colonna di valori. Andiamo su questa tabellina e facciamo un paio di esempi per vedere bene come funziona questa cosa qua. Vogliamo estrarre i nomi da questa lista, allora basterà dare un esempio ad Excel, quindi da-mi-a-no. Adesso noi facciamo un bel CTRL-E su una cella qualsiasi e vediamo che lui ha interpretato il nostro inserimento con quello che lui si aspetta che noi vogliamo ottenere e ci ha dato appunto il risultato dei nomi. Le città qui vedete che sono più complicate perché hanno i caratteri giolli alla fine, alla fine oppure all'inizio. Quindi dobbiamo dare gli esempi un po' più precisi, ad esempio lo facciamo su Brescia. Se noi facciamo CTRL-E adesso vedete che quelli iniziali non li ha tolti, quindi una soluzione non gli basta, gliene diamo due o più soluzioni se necessarie. Andiamo ad esempio qui Torino, ok, quindi ne abbiamo dato uno alla fine, uno all'inizio, facciamo un bel CTRL-E, ecco che adesso invece abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo.